Presidente Grasso, lei ha detto di aspettarsi da noi questa sera killeraggi e video. Purtroppo dobbiamo deluderla, né killeraggi né video, solo fatti e domande a cui lei non è molto abituato perché è sempre piaciuto a tutti, politici e giornali, caso praticamente unico di magistrato nell'Italia degli ultimi vent'anni. E cosa ho detto giovedì di tanto grave per infamarla come lei ha sostenuto? Che lei è un italiano furbo, una specie di Alberto Sordi della Toga, un campione di slalom gigante. Infatti mentre tanti altri magistrati a torto a ragione venivano insultati, spiati, puniti, perseguitati da Berlusconi eccetera lei veniva elogiato e favorito da Berlusconi. Ho anche ricordato che lei ha proposto la medaglia antimafia al Cavaliere, lei dice che è stato un equivoco, che non è vero quei birboni della zanzara, le hanno cavato di bocca delle parole che non voleva dire, quelli l'hanno fatta risentire e si è proprio sentito chiaramente che lei voleva dare un premio speciale a Berlusconi e al suo governo per la lotta alla mafia. Allora, lo sa che cosa poteva fare per non essere equivocato alla zanzara? Poteva dire no, niente premi antimafia, che dice che Mangano è un eroe, che bisogna strozzare chi scrive i libri sulla mafia, che i giudici sono matti, antropologicamente diversi dal resto della razza umana, un cancro per la democrazia. E così nessuno l'avrebbe fraintesa. Dunque, che cosa resta delle presunte infamie che tanto hanno angustiato lei e soprattutto la sua signora? Resta che lei è un furbo, e non lo dico solo io. Nel 2004 il suo vecchio allenatore ha dipinto di lei questo ritratto. Grasso da giovane giocava a calcio nella mia squadra, la Baccigalupo a Palermo, ed era famoso perché a fine partita usciva sempre pulito dal campo, anche quando c'era il fango, lui riusciva sempre a non schizzarsi. Quell'allenatore si chiama Dell'Utri, e il messaggio era chiarissimo. Mentre i suoi colleghi prendevano palate di fango in questi anni, lei usciva sempre tutto bello immacolato e come nuovo. Anche Dell'Utri la giudica un furbo, e forse per questo lei gli piace tanto. Negli ultimi giorni infatti l'ha elogiata tre o quattro volte. Grasso è equilibrato, è un uomo di Stato, lui sa chi sono io, Grasso è una brava persona, sono contento per la sua elezione a Presidente del Senato, non è un PM fanatico come Ingroia. Anche lunedì sera, il lunedì grasso, ormai passerà la storia come lunedì grasso, lei si è dimostrato molto furbo, ha lanciato accuse e insinuazione a tanti suoi colleghi, ben sapendo che loro non potranno venire in televisione a smentirla, perché loro rischiano processi disciplinari e querele. Lei no, perché ha dismesso la toga e ha indossato l'immunità. Ora Caselli ha chiesto tutela al CSM contro le sue accuse, e vedremo se la otterrà, ma lei l'altra sera, oltre che furbo, si è dimostrato anche un bugiardo. Ieri sul Fatto Quotidiano ho elencato dieci delle sue bugie, e non è bello che il Presidente del Senato dica tante bugie, perché all'estero ne basta una per portare alle dimissioni un politico. Partiamo da questa. Non ho firmato l'appello del processo Andreotti perché non potevo, ero stato sentito come testimone in primo grado e potevano risentirmi in appello. Ma questa, signor Presidente, è una menzogna. Ascolti questa storia e vediamo se se la ricorda. Nella primavera del 2000, lei è procuratore capo a Palermo da qualche mese, i suoi procuratori aggiunti, lo forte e scarpinato, stanno preparando l'impugnazione contro la sentenza di primo grado in cui Andreotti è stato assolto. Ogni tanto vengono a spiegarle come stanno procedendo. Poi quando hanno finito le portano tutto il plico con l'atto di appello perché lei vi apponga, non la firma, perché i PM in udienza sono autonomi e non hanno bisogno della firma del capo. Il visto, che cos'è il visto? È il visto, vuol dire che il capo ha visto l'appello e lo ha mandato avanti. Lei però rifiuta di mettere anche il visto, sostenendo con loro di non conoscere le carte e insomma non ne vuole sapere di quel processo. Nulla dice lei ai suoi collaboratori sul suo ruolo di ex testimone che le impedirebbe per motivi tecnici di firmare. I due PM escono dal suo ufficio molto mortificati da mesi da quando in primo grado è stato assolto Andreotti sono sotto attacco, li chiamano togherosse, fabbricatori di pentiti, subornatori di testimoni, teoremi e cose. Si sentono sempre più isolati anche perché subito i giornali interpretano il mancato visto come una sua presa di distanze dal loro operato e i giornali infatti scrivono che lei li ha scaricati, si è dissociato da quello che veniva chiamato il processo del secolo fatto iniziato almeno da Caselli. La stampa berlusconiana invece la porta proprio in trionfo dal velino di Lino Iannuzzi al foglio di Giuliano Ferrara e cioè i giornali house organ del partito antigiudici. Viva Grasso, Bravo Grasso, cambiano le cose a Palermo eccetera. Lei non manda una riga di rettifica a questi giornali, lascia scrivere né tantomeno naturalmente telefona a qualcuno per sfidarlo a duello, anzi spiega il suo gesto in due interviste. Potrebbe dirlo lì che il mancato visto è dovuto a quel fatto tecnico dell'ex testimone eccetera e invece non ne fa parola. Perché? Evidentemente perché il motivo non era quello. Dice infatti tutt'altro. Al quotidiano nazionale dichiara forse se avessi avuto più tempo avrei potuto collaborare anch'io alla stesura dell'appello ma dato che non ho potuto non l'ho firmato e nemmeno ho vistato. Sulla stampa lei critica addirittura i processi avviati da Caselli capace, dice lei, di ottenere condanne solo sulla stampa nella fase delle operazioni di cattura e non sempre nelle sedi giudiziarie e in via definitiva. Non fa nessun accenno a quel problema tecnico del suo ruolo di testimone nel processo. Qualche settimana dopo poi viene un suo collega nel suo ufficio a parlare con lei e le dice più o meno così Piero ma ti rendi conto del casino in cui ti sei cacciato? Stai diventando il beniamino dei nostri calunniatori. Era questo che volevi? E lei dice sì è vero in effetti però non volevo ma adesso come faccio a uscire da questo vicolo cieco? Ed è lì che il suo collega le suggerisce una scappatoia, un escamotage tecnico. Le dice Piero perché non dici che eri stato testimone nel processo Andreotti e che per questo non hai vistato l'appello così la smetteranno di dire che hai scaricato i tuoi PM. E lei rispose bravo buona idea dirò così ed allora ha detto così sempre anche l'altra sera in televisione ma è una scusa appiccicata ex post è una bugia inventata dopo da un altro lo vede perché lo dobbiamo fare proprio questo confronto? Perché questa storia me l'hanno raccontata dei testimoni che sono pronti a venire a testimoniare in tribunale se lei mi vorrà querelare oppure potrebbe venire qui e dirci finalmente la verità. Giovedì scorso ho anche detto che mentre i suoi colleghi pagavano prezzi altissimi per le indagini sui potenti che stavano facendo lei se ne è sempre tenuto a distanza è uscito sempre lindo dal campo proprio come la descriveva il suo vecchio allenatore dell'Utri con la maglietta immacolata infatti in sei anni a Palermo lei ha fatto processare un solo politico di primo piano Totò Cuffaro che fra l'altro le era capitato per caso fra i piedi da un'intercettazione fatta su tutt'altri cioè su un boss lei si è indignato ma però alla domanda ma scusi quali altri politici oltre a Cuffaro lei ha processato? Lei ha risposto testualmente riuscendo a restare serio Vincenzo lo giudice detto mangia lasagne mangia lasagne ma cos'è uno scherzo una battuta forse lei sperava che nessuno sapesse chi è mangia lasagne e cioè un povero consigliere regionale dell'Udc che è un quacquara qua al confronto degli Andreotti Carnevale Contrada dell'Utri Mannino Inzerillo, Gorgone e altri processati dal pool di Caselli forse era meglio se non lo citava proprio mangia lasagne faceva più bella figura insomma lunedì sera lei ha impiegato quasi due ore nel tentativo di smentire due minuti che io le avevo dedicato giovedì scorso ma purtroppo è riuscito a confermare quasi tutto quello che avevo detto a parte quando ha parlato del pentito Giuffré e ha detto che i 36 PM che si erano riboltati contro di lei perché li aveva tenuti all'oscuro di quel pentito l'avevano fatto per orgoglio ferito cioè 36 orgogli feriti tutto il pool di Palermo orgoglio ferito no, il fatto è che per legge voi avevate sei mesi soltanto di tempo per interrogare Giuffré e lei ha buttato via i primi tre di quei mesi per chiedergli di certe estorsioni commesse da ben dodici pecorai e pastori delle Madonie eppure Giuffré, l'ha detto lei valeva oro era uno della cupola era il braccio destro di Provenzano sapeva tutto era il nuovo Buscetta così lo definì e perché allora in tre mesi non gli ha mai chiesto nulla sulle stragi la trattativa, la politica Andreotti, Dell'Utri i rapporti fra mafia e istituzioni lei ha detto perché Giuffré mi aveva parlato di talpe in procura e temevo che parlandone con gli altri la notizia uscisse bella fiducia nei suoi collaboratori comunque le talpe si è poi scoperto non erano PM erano marescialli legati al costruttore Michele Aiello e lo sa chi fu a interrogare Giuffré su Aiello Scarpinato e quegli altri PM che lei aveva tenuto all'oscuro del pentimento di Giuffré per tre mesi quando finalmente poterono interrogarlo quindi è grazie a loro se avete poi arrestato Aiello e le due talpe quindi le talpe non sono state smascherate perché lei aveva tenuto segreto Giuffré e i suoi PM sono state smascherate proprio perché a un certo punto ha dovuto informare i suoi PM l'esatto contrario di quello che lei ha detto l'altra sera perché non ammette di avere sbagliato e non viene qui a riconoscere di avere raccontato un'altra bugia ultimo punto Caselli verso il quale lei mostra una certa sindrome di Salieri come lei dice Caselli ha indagato più politici di me ma bisogna poi vedere gli esiti processuali frase infelice pronunciata proprio nel giorno in cui Dell'Utri veniva condannato per la terza volta per mafia e qualche giorno dopo il rinvio a giudizio di tutti gli imputati del processo della trattativa che è stato un grande successo per i PM in Groia di Matteo Sava e del Bene e ultima bugia grossa l'ha raccontata a proposito proprio delle tre leggi che il governo Berlusconi nel 2005 fece per eliminare Caselli dal concorso della procura nazionale antimafia lasciando lei solo unico concorrente in mancanza di avversari lei si offende perché io dico che lei quelle leggi le ha ottenute e risponde ma io non le ho chieste ma sì ma certo ma per ottenere non è necessario chiedere basta meritare ecco lei si è mai domandato che cosa ha fatto per meritare da Berlusconi tre leggi contro il suo avversario e cioè a suo favore e che cosa ha fatto invece Caselli per meritare tre leggi contro se stesso ecco Berlusconi doveva avere veramente degli ottimi motivi per farle quelle tre leggi altrimenti non le avrebbe fatte lei dice che le leggi non ebbero effetto perché il CSM poteva fare le corse un plenum straordinario e decidere prima che le leggi passassero fregando così il Parlamento ma non si poteva e infatti 13 consiglieri del CSM chiesero il plenum straordinario tra cui 5 tutti e 5 quelli del centro-destra e il vicepresidente Rognoni non gli ha neanche risposto perché era una proposta indecente e irricevibile se lei non voleva vincere un concorso truccato perché avevano eliminato il suo unico avversario c'era un'unica cosa da fare ritirarsi da quel concorso se la nominavano dimettersi aspettare che la consulta dichiarasse incostituzionale l'ultima di quelle leggi proprio così per una questione di lealtà e anche di rispetto dell'articolo 105 della Costituzione e stabilisce che è il CSM a fare le nomine dei magistrati e non il governo anche perché quelle leggi anti Caselli un effetto l'hanno avuto Caselli non ha potuto ricorrere al TAR contro la sua nomina e avrebbe potuto anche vincerlo quel ricorso al TAR perché Caselli è molto più anziano di lei e aveva molti più titoli di lei non sapremo mai come sarebbe andata perché non ha potuto nemmeno fare il ricorso e poi scusi ma approfittare di leggi come quelle e poi dire non le ho chieste non ricorda un po' la casa di Scaiola che gli fu pagata al suo insaputa è roba da furbi è un po' come non vistare un appello e poi inventarsi una scusa dopo è un po' come se le portassero tre pizze a domicilio lei se le mangiasse e poi dicesse tu guarda buone chissà chi me le ha ordinate e me le ha pagate e lei lo sapeva benissimo chi le aveva ordinate le leggi le aveva ordinate Berlusconi eppure le ha accettate adesso le pare strano infamante minaccioso e addirittura un po' mafioso che un giornalista uno solo le faccia steccando nel coro degli Osanna una semplice domanda proprio nel momento in cui lei è candidato a diventare un possibile premier di un governissimo PD-PDL o addirittura per il Quirinale la domanda è questa per quale motivo in questi vent'anni lei è stato l'unico PM antimafia d'Italia elogiato da Dell'Utri e applaudito e favorito da Berlusconi ormai non ci contiamo più qua dentro però se vuole l'invito qua da noi è sempre valido ci vediamo qua e ci spiega tutto oppure se ha proprio tutti i giovedì occupati di qui all'eternità siccome il servizio pubblico non va bene a lei e Piazza Pulita non va bene a noi organizziamo insieme un confronto in campo neutro in un altro giorno della settimana con un altro arbitro lo scelga lei andiamo da Mentana ci vediamo dalla Gruber facciamo da Lerner o magari dalla Parodi ecco facciamo dalla Parodi ci sappia dire grazie grazie grazie